Dov'è il mio veicolo? Mi sto rendendo così scena Ehi papi, adesso me lo scoppio Sintorno Prendiamo il zintorno Questo va bene Doc, dovrei avere tutto io Se lei viene su GTA 5 Io non vengo adesso Adesso non ti sembri mai Ciao Eh? Ti laga il microfono Ecco, son dentro Laga molto il microfono Fate scemmortare Mi piacerebbe un sacco vederlo Ale veramente hai scritto con un account Fasul Sei una merda No No Almeno sgancia il follow Sgancia almeno il follow Nel senso Ma qui è il mio account principale Cioè il mio account C'è una grande La mamma del mano È una grande C'è la mia missione del bunker Sono due con lei Ehm... Quale X? No È una grande Mi sentire Si chiama a testata Tra quali non guidati No Ah! Ti sono riusciti Ma tu è la mamma veramente troppo Ne ho sfruttato a uno a caso che non hai nemmeno guida Sono i missili non guidati Tu hai la mamma veramente Ehm... 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 In realtà io mi devo ancora rifare una bella cosa che lei mi ha fatto sul micro ronde Contro di me sul CTA non puoi fare nulla mi dispiace È vero non posso perdere Marti ti giuro che non ho fatto apposta ucciderti te lo giuro sicuro che vuoi Per la prima... Per la prima volta ti giuro che... Madonna per la prima volta Ma vatti il launcher per iniziare va Molto semplice Modalità passiva Non è disponibile Aspettate Vengo anch'io sopra l'elicottero Ilicottero Non è proprio un elicottero ma... Elicotter... Non c'è più l'elicottero Dov'è sparito? Cosa? Non c'è più Ah no è modalità passiva Il dock in passiva sull'Avenger lol Questo qua è passiva sull'Avenger E' armato non posso stare in passiva con l'Avenger Per 30 secondi si Beh Chi è che mi spara? Ma puoi esplodere l'Avenger? Sì Anche te puoi esplodere l'Avenger Ho penata più lunga con una moto Io prenderei il faggio Marti Proviamo a far esplodere l'Avenger Servono 35 homing però va bene Già 10 li ho lanciati 10 Aspetta che appena esplode lui Passa eh Eh ma allora E dai Vabbè basta non lo faccio più Avremo da completare... No E basta No Io continuo Anzi io te le restituisco Io domani i dock la farò esplodere su microonde Ma tu non c'è ti sei? Ma non ti basta Ma io Io dovevo tirarti due volte Vabbè Non dovevo fare niente Niente C'è ancora il cartello di microonde SMP scusate No Eccoci qua Ah Abbiamo un po' di dol Ah io dovevo modificare il faggio Il fagiolo Doc Modifico Il fagiolo Il fagiolo Ma Doc aveva detto che si possono fare 2 milioni con il bunker Sì Ma a me dà 55 mila ed è appena... C'è... Perché non l'hai maxato E cos'è che dovevo maxare? Ah le sei un bastardo Ma devo fare anche tutte le ricerche per maxarlo Sì Eh? Nooo Devi... Vabbè lascia stare Cos'è che bisogna fare? Allora le... Cos'è io ieri ho fatto un milione Ed era tipo a tre quarti Due quarti Vabbè era a metà praticamente Quindi tre... Il milione si possono fare Com'è che si chiamava la moto bellissima quella fichissima? La... 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 Nagashi E quella che costa pochissimo la... Ah la Bati La Bati La Bati La Bati Durudurudu Sta macchina che ho chiamato Sì Allora mi serve Piccoli Riporta il deposito Marti mi inviti in liceo? Ho appena visto esplodere un Avenger Sì perché non mi serviva più e non sapevo come scendere Volevo scendere costile E che pensi che la scenda costile? Dai lasciami stare Ale Non rompere le palle sempre Cosa c'entro io? Ah no questa è lì qua scusa No! Ho preso a rompere male il costo Cioè Cosa c'entro io? Dove sempre rompere le palle Mi lascia mai stare Vabbè dai ti lascio stare Mi vuoi lasciare stare Non t'ho fatto niente Non t'ho fatto niente Vieni vieni Non t'ho fatto niente Non t'ho fatto niente No tu te ne vai via Ma perché non posso neanche venire nel mio bunker? Non lo so Ho comprato anch'io sto bunker che pensi? Tu l'hai rubato non l'hai comprato E' vero Io l'ho comprato Figa Ma sta macchina è un botto figa Io so già cosa sta facendo il doc però Che fa? Mi manda al rapinatore quel bastardo Cosa vuoi? Ma cosa vuoi? Cos'è il rapinatore? E' un bambino speciale Ma non ti ho fatto niente Dai mi dite cos'è il rapinatore Doc se ne va via da lì per favore Ma non posso neanche giocare No non puoi giocare esatto Ti ho detto te ne vai via di lì Se lo vuoi Siiii Ma Doc non si fa così Si spara le auto così Vedi che funziona Dai mi serviva l'auto E usa la sta auto No lasciami stare Perché hai la mamma? E' un bambino 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 Alessante E' un bambino E' un bambino E' un bambino Non l'ho ancora capito Me lo può spiegare? C'è vorrei saperlo Vorrei conoscere come fa Allora Marti Dov'ai l'este? I viti nel cielo per favore Un attimo Doc può venire un attimo Le devo fare vedere una cosa No Adesso lei viene qua No Non ho scritto in testa hai ragione coglia se dice di chi dai però pezzo visore che non vuole andare accessori accessori visore alla insomma adesso che non mi serviva devo andare dov'è il mio coso faggio il fagiolo dov'è il fagiolo ragazzi per la prima volta non c'entro il mio dio doc mi ha sbottato giù il fagiolo ma che merda non sono stato io che sto qua da mezz'ora a guardarti ma guardami le palle ma se non crolli o mi mandassi la pinatole hai visto ma dai ma fai schifo ma anche tu lo hai fatto anche tu non l'ho mandato io aspetta perché mi devi rompere i coglioni devo accedere al rapinatore ma perché tu mi ha mandato il rapinatore e a me adesso vi tocca dettonare perché mi devi rompere i coglioni ma io non ti ho mandato il rapinatore non mi interessa io adesso devo chilare il doc tre volte è giusto è giusto è giusto però non lo toccherò io io ammazzerò il doc senza toccarlo se lui non tocca a me ma veramente stai scappando a piedi sei un gineo ti vengo a prendere ma perché devi rompermi i coglioni è la quattro è più bello quattro che i due ma hai rotto le balle oh no io scappo cioè manco si può guardare la mappa che uno la mamma e devo ammazzare il doc cinque volte che te devo di che siete là in fondo alla mappa non lo so il doc continua a farmi spostare se no tu che ci fai lì che ti devo di mi arrivano adesso che ti piace adesso venendo da voi vabbè leviamo dalle balle sto tizio e basta eccomi ma cosa vuoi investi questo esploso guardi che bella auto che auto di merda doc la passo a prendere a prendere non la tocco se lei non tocca a me vede che non la tocco ha avuto la paura il doc no veramente sali sali io no qua ma sono qua sali sali sull'auto mobile no mi ho ucciso scusa vabbè dai no io ti devo ammazzare quattro volte ancora eh te l'ho detto che ma io devo ammazzare questa bella motina è mia no dai vaffonti dai lì che questo è per la venge è diventato tommy ma non te l'ho esploso l'avenger eh oggi ce l'ho con tutti tommy è diventato cioè no aspetta devo chiamarla Morse Mutual per ripararla giusto no chiamala la zia Amanda rubala però lei si ma ti posso salire con te ma io sono andato in Cina da che non è male prenditi un'auto che ho fatto io ma cosa che facciamo un po' fatemi dare il rapinatore alle persone fatalmente schifo st'auto di merda che è più lenta della pula la pula con le sirene accese è velocissima ah perché accende le sirene al bus no ragazzi si ti giuro ti giuro prova l'auto della polizia se accende le sirene va più veloce si fa 2 km di più però vabbè comunque più veloce ho fatto un incidente davanti alla polizia e mi sono beccato due stelle merry weather merry weather non so se lei mi lascia stare io non la tocco cioè dovrei toccarla l'altra volta però ma d'acqua ma è molto più veloce il faggio così vroom ma ti è desiderato devo scoppiare in qualche modo ma ti è desiderato Sicilia mi costava 500 dollari era troppo ah dock in passiva eh dock in passiva almeno non è schifo no non faccio schifo dilla ai mercenari e l'ampinatore che ti ho mandato si attaccano anche in passiva se non lo sai se io vado dentro lo santos custom no aspetta fuori io cambio sessione oh sta merda dai sul serio mi mandi sta merda mi sono mandata anche all'esercito che merda che merda sti cosi sono inutili me l'hai mandata anche a me che ti devo dire io non te l'ho mandato è stato sceso dai mercenari e si gode tua madre deve godere quando glielo è morto dai mercenari dai mercenari sono più scarsi del rapinatore serio boccheri vuole conoscere gli amici mercenari no voglio conoscerti e ammazzarti quattro volte allora ah non posso fare peccato io ho il faggio cosa facciamo? non lo so una delle missioni e si può fare la macchina c'è mortale e ma c'è una persona più la che spingia sai quindi da qua voglio vedere come funzionano le palle che girano adesso non mi dovrebbe causare neanche la polizia vai uno v uno mercenari io sono faggio per quello che non potevo sopravvivere e io sono a piedi come un pote vabbè letteralmente sta motoretta del cazzo è velocissima però i mercenari non arrivano perché sono rotti dai facciamo un giro di rapinatore ai mercenari adesso io metto sta roba sta roba è bellissima lascio questo guarda che bello è il mio burgoncino io voglio cambiare un attimo modificare la moto io faccio una cosa bella facciamo così ma sono arrivati adesso i mercenari proprio io sto letteralmente creando una 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 cosa stupidissima i mercenari hanno fatto l'uso ma lo sento scasta ma è chiuso che schifo sto letteralmente creando la cosa peggiore di sto gioco quale ci sta questa no buono mettiamo questa questa ci sta la grafitta ci sta di più no l'aner carbonio ho creato guardi cosa ho creato vroom il vroom ho creato il vroom doc c'è questa paura doc doc io la sparo io ho il vroom e quella è più veloce ma sicuramente no io voglio esplodere questo che sta passando zio porco doc guardi una puttana è selvatica vengo anch'io no aspetta 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 ma vuole a mio guarda non l'ho copiato però io ho messo la quadrupl'antenna aia ma il pompa è arrivato qua dietro che merda non lo so ops bro volato no doc io non la esplodo se ne hai non mi tocca no dati prego vabbè tanto le gomme antiproiettile lui la bati io vado via ragazzi guardate i fuochi d'artificio della svizzera io sai che immagine brutta no dai duro du du duro du du aspetta ragazzi come ho presso e dai mettimi giusto casco ma io la quadrupl'antenna è meglio che basta attaccato la bomba adesiva ti attacco la mano ops la ma la mano no la mano si e lì c'è la seconda volta che mi esplode senza motivo tuo figlio no c'è un motivo dì che mi stava sparando tua sorella in cariola dai uccidimi bravo via ma siamo 5 a 1 quindi il motivo c'era ovvero che sei scarso beh effettivamente si ah si qua c'è uno se ne puoi parlare c'era uno che era qua in mezzo alle pade accessori attiva e intanto io c'ho il notturno c'ho il termico anche io c'ho il notturno vabbè è venuto quell'oppressor chi? no tu mi lasci stare Ale per favore guarda questo guarda questo con l'oppressor è venuto te l'uccido boh a caso questo lui viene rompe il cazzo se ne va no non è immortale l'ho ammazzato io prima oh mi ha ucciso no mi ha ucciso quel tipo ah si vuole vedersela con me con Alex lo sterminatore minchia puoi venire a prendere doc sono senza anche a me grazie aspetta che ho un piccolo problema di oppressor e polizia sai con la pc? no e cos'è allora? non posso chiamare il meccanico lo sfido lo sfido molto dietro molto dietro che è più bello venite a prendere anche me no non mi fa montare perché ti fa montare davanti? vai 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 venite a prendermi metta un secondo che l'aereo fa ciao ciao la doppia mitraglia andiamo a prendere Ale scusi signore vado mi ha ucciso questo ti ha rotto sono qua giù io ho trovato una limusina robo la 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 limusina si appunto pesta alla baldracca aspetta no perché posso montare solo davanti? vai la vai la vai la vai la vai la vai la vai davanti al negozio di scarti non posso in line sono il clacson non posso eh vabbè così serve a fuoco eh eh andiamo a prendere evviva la fi- dietro di voi aspettate arriva ciccio gamer con il coltello eh c'è tipo quell'oppressor che vi segue questo non ha capito che non deve romperci voglio ma dammi il cielo sasso mi inviti grazie ok adesso lo uccidiamo un bel paio di volte il tipo lì perché ammigna ti vengo a prendere con la macchinina eh no se no aspettate vi invito io nel CEO così saliamo nel coso nell'Avenger no no possiamo salire lo stesso e io non posso spawnare l'Avenger devo pittare il CEO aspetta no l'Avenger mi chiedi l'Avenger io vado col faggio perché c'è prefaggio venite che appena spawno l'Avenger ah no ok quello si questo è sempre Doc non sai devi provare le armi su di me si hai ragione devo provarle anche quelle lì sopra ah no dov'è l'Avenger? eh seguimi alla prossima a destra di qua di qua resiste 35 razzi il problema è se colpiscono il motore che quello resiste e non resiste a 30 razzi vroom Docs tocca il vrrr il vrrr Alette prenditi una torretta qualsiasi tanto la puoi switchare mentre sei dentro entra te entri dietro ti puoi entrare? no esci dal CEO perchè c'è crew più amici quindi devi uscire dal CEO come ti puoi uscire dal CEO? M ah ecco ecco sicuro serve muoviti perchè c'è qualcuno che spara no mi fa salire davanti io sono nel casino eh vabbè ti faccio salire io aspetta ma stai premendo E? ah no stavo premendo F E vieni qua e premi e vaffan vai ti faccio entrare io ahia c'è dentro? si per forza vai prendi una torretta qualsiasi io mi abbi se vuoi io sto andando al casino che avviamo una missioncina perchè non abbiamo fatto niente e prima bisogna sterminare il team allora Ale con Q e D cambi torrette con la rotellina del mouse se zoomi inizia a colpire quello con la venger e con la cosa per favore la venger con la non so dov'è eh davanti a noi ah lo vedi lo vedi lo vedi lo vedi io ti ci porto sopra vai tutto davanti tutto davanti questo vai te la frena te lo frena inizia inizia braaaavo eh no dai ma abbandonati no che entri dai entriamo dove? dove? dove entri? che cosa entri? da te? mmmm perché non entri in Amanda? dodo e io ho acquistato il giubbotto arma iniziale come al solito tannica per il senso tra 3 2 1 dove c'è la scaletta laterale ok Marti viene con me in cucina prima mi riparo un attimo vai giù e tenta di non farti ammazzare dai 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 fatto fatto porcazza rimani safe lì e aspetta un attimo parola cieca se proprio devi ti consiglierei il fucile avanti non hai detto parola cieca? ma stai buono vieni qua con me vai vai qua guarda perché io non muoio se sparo così alla cieca aiuto ma è vero scusami l'ho fatto per 10 minuti non sono morto vabbè scusa tenta di non morirlo stesso la mano e non tutto il corpo Ale te non tenta di non morir da vede muoio io beh anche noi eh sì anche lui c'è morto e io so gestire la situa dai ma mi ha già tolto il giubbotto a me eh io non ce l'ho mai avuto il giubbotto elicottero mi sta sfondando mi riparo ah fa una boia di danno ah grazie sarebbe così bello così il fucile avanzato che è forte forte il fucile avanzato riesco a venire le cose vieni qua dietro dove ci sono io che non ti prendono mai lì dietro aspetta un attimo oh usa l'avanzato fidati è più forte sto stando il pesante eh ma è buono l'avanzato mi sa che non ce l'ho se l'ho anche la tommy gun non fa schifo eh c'ho il bullpup bullpup eh vabbè non fa schifo e spara tanto raffica mi sono messo un giubbotto super pesante però non l'ho maxato il bullpup mi sono messo un giubbotto super pesante però preferisco il pesante fa più danno e in due secondi ammazzo uno ok se tutti restiamo così io ti do un compito importante vieni qua e mettiti dopo marty vieni qua ma quello è rimasto appeso nel vuoto scusate se non ho appeso nel vuoto lo vedo solo io bravo tenta di esporti il meno possibile per morire il meno possibile e vabbè sta laggando il gioco ragazzi se dovete rigenerare io snacko un pochino ma pronto li ho finiti e ormai vabbè o no ah no ok va bene avete l'elicottero ma poi dov'è l'elicottero scusatemi no dietro la palma pure dietro un muro non posso è morto sono venendo qua esploso farò un po' caso come dici te per se si mette in mezzo il tipo ho già usato più di duemila munizioni adesso ci vado un pochino pesante eh solo un po' auguri voglio anch'io quello cos'è? fa un po' di danno eh è utile per dare fuoco il fucile il coso piroetnico non il fucile scusa no 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 voi restate la mi aiutavo a capire no 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 ragazzi ragazzi mi aiutavessi era prima ok tiro giù uno tiro giù uno io torno qua che arrivano davanti mi fa andare mi fa andare e mi fa andare e stavano a sparare a un esercito intero che questa non è gente poco consigliabile questo si chiama zero mi sa che dobbiamo andare avanti eh non è che loro vengono sì sì vengono tranquillo mi aspetterei qua adesso io resterei qua tutto il tempo mi sembra sicura sta zona aspetta doc le dico la informo un attimo su un paio di cosette ah la non c'è poca gente di più c'è veramente è aspetti che salgono dalla scala sono andati? credo sì qua sono finiti scendiamo dalle scale qua sfruttiamo il aspetta che arrivano di qua grazie dell'aiuto ragazzi e non vedo nessuno metti silviate non ce l'ho al termine ci stavo bene mettiti il visore perchè mi serva anche il cilio doc vado avanti io vado avanti io vado avanti io ma si può provare arriva uno pronti? vai aiutate allora io vado avanti però voi vi dovete aiutare faremo qua un ottimo ma l'acqua è bugata raga piano eh seguitemi se la dobbiamo rifare in caso sappiamo come c'è uno qua uiuiui aspetta facciamo così c'è uno proprio lì andato andato stavo volando di sotto bello per ripararsi bello per curarsi un attimo se vuoi dai l'iniziale lo stendi e lo finisco non vi do fastidio in verità ci aiuteresti ah gesuuu nooo peccato eravamo andato ho provato a prepercumano ma l'ha preso scusate scusate ma lo prende lo stesso se sei lontano eh facciamo la stessa cosa adesso ah perchè ce lo voglio rimettiamoci davanti il banco di cucina lì quella roba di cerco portiamo il banco e appena prendiamo nitte rigeneriamo completo siiii non dovete muovermi a venire nel banco perchè sennò io non vi cucino se vanno venite si ma io spawno davanti ma abbiamo il checkpoint sicuro bello un respiro di solevo per tutti siiii ok ragazzi si fa come prima vado avanti io col te oe vabbè però che cosa sono questi fiorai la capriola aiuta tantissimo io non mi ricordo come si fa e allora spazio tasto destro mentre miri devi spaziazzare io invece posso farla senza dover mirare raga sono in piscina dai io sono morto oh porco bottana siamo morti insieme no non sei morto tu io non sono morto no no ero quasi morto perchè aspetta Ale farmiamoceli così vero doc lei ha uno sputo di vita però stai attento io c'ho tutta la camera per saperlo scusa è perchè ti posso guardare con il mirino se aiutami io vedo la torre vuoi? cosa hai detto? mi era salito sul sul tetto se io ti miro posso vedere la tua vita si anche il giubbotto è vero? puoi rompere la telecamera ragazzi sono tantissimi ai 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 vittorio rossi non c'è vittorio sono un attimo entrato qua che faccio un attimo snack e anche giubbotto ma te stai coperto te che sei molto propenso a morire no ho vita massima e giubbottanti proiettile massimo e ti mario ti massimizza qualcos'altro se muori appunto vado avanti no ce n'è uno sopra attenti sopra eh qualcuno stia sopra anche stia a mirare sopra non posso mettermi sotto domanda di informazione grafica come salgo se l'unico modo per salire è esposo ok poi ti ho detto di informazione grafica ho esploso qualcuno andiamo 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 si può entrare raga dentro con me raga scuola di supporto anche qua si può entrare si aspetta che ce n'è uno qui aspetta devo togliere il termico eh pronto tutte le porte si può entrare però è chiusa ti l'ho detto bisogna salire sopra scusi si montaccia sua fermi pronti qui si può entrare però bisogna salire gioco sopra quale sono le scale vedete vi ti ho pano io farei così aspettate aspetta 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 ah ma ci sono i condizionatori ragazza juggernaut juggernaut eh l'ho notato c'è il pallino rosso attenti a salire tutti riparatevi cavolo il juggernaut lino eh vabbè io uso questo e lo chillo no non ci credo ma cosa ho preso il muro con le mine tu hai detto di spammare tanto abbiamo un check io ho pensato avresti fatto esplodere con il condizionatore io voglio un altro check point no vero sono quasi a livello 104 quella che mi sa pervenire se non vediamo questo cazzo di missione lol lol va finita se non ho letto a cantare il soscuro nooo tanto oscuro non era fazzoletto in alto ok ok siamo qua siamo qua ah secondo checkpoint c'è il buzzard doc c'è il buzzard raga c'è il buzzard cosa fate lì? arrivo arrivo aspetta però attento al juggernaut che te lo ce lo getterà giù secondo noi doc salga sali ah ma c'è il buzzard io pensavo in tedesco l'elicottero ma si non lì non lì dall'altra parte se non puoi sparare va bene spero che mi scelgo la stai pronto perchè questo fa boom non mi sono fatto danno ok sono scelto ma sono mi sta ammazzando che merda dei missili questi potete sicurare sti due che non riesco salire so due posso ma c'è metà vita ma mi sta uccidendo c'è più meno di metà vita spero che vado con io son su snack io mi devo allontanare perchè sennò schiotto ecco il juggernaut no 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 è un pirla e ma c'è il motore rotto che schifo di elicottero che è fuori dalla zona 1? no siamo esplosi ma fa schifo sto elicottero raga no sei stati troppo fuori dalla zona ragazzi il juggernaut è abbastanza difficile ma è impossibile da guidare fa schifo come elicottero via 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 Dove due state a terra di coprire dall'altro verità lo so usare bene il buzzard doc la prego Ma te mi fai esplodere lì che però te sei bravo con Per favore a sparare lì quindi se vuoi Guidare il buzzard Noi due si sa le lati no no io è meglio che due vanno a piedi e uno sul buzzard perché sparare non serve a niente va troppo Ma io posso usare lanciarazio vuoi capire che praticamente posso abbatterti Però mi levo dalle palle Ci dimmi questo primo è all'elicottero Mi dai il visuale libera sul jacker not per favore puoi girarti il gira titilato Petta c'è uno dietro Petta c'ho detto che non ho il visuale Ma mi sono andato mi sono andato uno dietro Dovrei aver già fatto fuori il jacker not Gira No Giorno di merda Finito Finito raga Come è finito? All'ascensore Dove si trova questo ascensore? Ho il paracaduto se mi butto Sì L'ho fatto io Oh quel buzzard in merda deve scoppiare Dove dobbiamo andare? Presto lo vedrai scoppiare Dove dobbiamo andare? Da tornare indietro Da Vincent Poi si gode Ha scoppiato il buzzard Ragazzi L'ho buttato da qua o era vivo? Ce ne facciamo un'altra che mi è piaciuta però eh Va bene Si è stata figa Eccomi Oh Mamma mia ragazzi Basta Bum No La mamma del Manu Andava Dai Giro Cosa? La mamma del Manu È una grande Brava signora Mamma del Manu È una grande Brava signora Brava signora Brava signora Brava signora Brava signora Vabbè dai ti do il consenso Il consenso Sto aspettando che mi chiami la vaga da Baker Ah il fornaio Doc Signa Baker si chiama Signa Signorina Possiamo moschettare Ale Servizio limusine Tu cosa mi vieni addosso? Noi No però per favore la mia moto no Ti prego La rubo Ci metto la benza sopra Hai le gomme antiproiettili che merda Quando chiama la signorina Baker scusate Scusate Scusa Pensavo fossi un altro giuro Dai che lo so per mettere sotto Stava per essere la scena più epica del mondo Scherzo scherzo marty scherzo Oh no Dai mortiii Anche io scherzo Ma io non ho ucciso No solo prova Ci ho messo lì la benzina sotto Dai me ne vado Ti prego Non esploditemela Ho fatto il mortale all'indietro Grazie rica No ma prego eh Tranquillo io voglio essere pagato per i miei servizi eh Hai capito? Io non farò nulla gratis Ciao E tu vieni qua Non pensare di scappare Io avere must call Che fa schifo come prestazioni Però va bene Questa è andata a fare il cavallo Fa la corsa con i cavalli Che belle le auto da rally Sì ma posso baria la corsa È solo il tagliato fuori Va bene Bro la prima volta che il parcheggiatore è incazzato e non scappa Hai solo incazzato No a me capita spesso No dai ti prego Ti picchio e ti schiaccio Dai lì che ti prego Dai Non toccare la mia moto perché veramente Se la fai esplodere mi incazzo Ok vabbè Incazzo vuol dire dentro il cavallo Doc gli ho fatto rally sulla corsa Doc venga a vedere la corsa dei cavalli com'è bella Guarda che bella corsa dei cavalli Voglio vedere il cavallo che corre Ci sono 47 cavalli in questa corsa tipo Guarda che bello il cavallo C'è il cavallo Vediamo il cavallo Sì perché questo è un classico rumore che fanno i cavalli Il cavallo Vroom vroom Andiamoci cavallo Vroom vroom Oh io ho visto un altro cavallo che vuole fare boom oggi Dai cavallo pazzo con il moto Non riesco a salire E non riesco più a tornare lì dalla moto Io voglio fare un investimento eh Vuoi che ti rimando la moto al depo Così tanto mi da 50mila dollari non ho sapito Ma sta fumando Eh eh drogata Il frontale No Doc 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 si no Vroom Ma what è passato uno con la Con la dominator e con l'auto che fa iiii Doc e prende Invece faccio la resistenza Vroom Dov'è volato Vroom Raga sfida Ma chi resiste di più dentro al circuito Vroom E senza Alex vuola Sono nel parcheggio del casino Raga vale solo Vroom Vroom Volevo sentarmi Sta tornando Cazzo Moto in acqua non è un problema Eh eh Si è un problema di morti muta No l'ho mandato al deposito in tempo Vroom Quando meno mia moto vincerà Il vroom D'ora che la richiamo Cazzo Chiamaci Doc ha English Fajos Ho fatto il faggio con la bandiera inglese inglese ca giolo? fa gioli inglese raga adesso il meccanico mi vuole bene no non mi vuole ancora bene ahahah basta eh recupero la mia moto poi continuiamo col circuito per favore dai no 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 ah è un modder ah modder gg modder come è che si chiama questo modder? ecco perché tipo aveva l'auto che andava al 500 all'ora tocca la limousine scusi signore con limousine io voglio acquistare prendi la limousine dai che rarissima che ha una bassissima percentuale di spawn ma bro l'ho spawnata io ah pensavo fosse quella che spawnata chi viene con me nel circuito? è tua adesso è mia vieni con la limousine nel circuito dai chi viene con me nella corsa dei cavalli io vai ti aspetto intanto la faccia di chi però se stai in passiva non ti chiamo mi ha frizzato col mod menu eh dai vedi se riesci a sbloccare ti ha frizzato col mod mod menu mi sa che mi ha fatto crashare il gioco ha abbandonato la sessione zia marty mi ha fatto crashare tutto no non puoi sparare non vale ah giusto ti posso solo distruggere vabbè raga fa niente nel senso io volevo fare un'altra missione chiudo vabbè basta per oggi qui ci sono